Davvero non si sa più che pesci prendere per tentare di fornire spiegazioni ai cittadini su ciò che sta avvenendo in Viale Aldomoro e in Viale Palmiro Togliatti. A novembre del 2022 fu avviato il cantiere per la realizzazione di una contestatissima pista ciclabile. Poi i ben noti problemi con la ditta esecutrice e la protesta dei cittadini e dei commercianti che continuano a chiedere alla gran voce che si rinuncia alla realizzazione di quest'opera che serve solo a creare disagi ai residenti e a paralizzare la circolazione stradale. A Palazzo di Città hanno revocato l'appalto e a quel punto si è aperta la strada del dialogo con chi si dichiarava contrario alla pista. Sta di fatto però che ci si è resi conto che invece la macchina burocratica comunale stava già cercando un'altra azienda a cui affidare il completamento dell'opera con tutte le criticità denunciate e quindi senza alcuna modifica progettuale. In municipio nessuno parla e quindi nessuno spiega cosa stia realmente accadendo anche alla luce dell'ultima follia determinata dalla presenza di operai che hanno rimosso i cordoli già installati con costi a carico della comunità per rifare il tappetino di asfalto su tutto il viale anche all'interno del tracciato della pista ciclabile. Come dire insomma che la ditta che sta rifacendo l'asfalto è entrata nel cantiere e ha diventato le strutture per la messa in sicurezza costate al comune di Brindisi 15.000 euro. Ma c'è anche a chi si chiede, come il consigliere greco, che fine hanno fatto i cordoli smontati. Dolcissi in fundo la decisione odierna della polizia locale di multare tutte le auto che hanno parcheggiato nell'aria di un non meglio identificato cantiere il tutto pur in assenza dei mezzi che devono rifare il manto stradale. Ma a chi giova tutto questo caos? Ma a chi giova tutto questo caos? Ma a chi giova tutto questo caos? Grazie.